Si è parlato anche di editing, quindi di montaggio, del tema su cui facciamo un focus adesso grazie a Pablo Creti che ha una nuova funzione da poco, responsabile dell'offerta digitale del Dipartimento Cultura e Società dell'RSI. Ciao Pablo. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie mille. Anch'io farò come il professor Cantoni, mi siedo perché mi sento più a mio agio seduto. Uno dei miei compiti in quanto responsabile dell'offerta digitale in RSI del Dipartimento Cultura e Società e fare in modo che i nostri video non abbiano 25 visualizzazioni su YouTube, ma ne abbiano un po' di più su tutte le piattaforme su cui andiamo. Solitamente ci riusciamo. Per introdurre un po' quello che faccio vi ho portato un video, è una storia di successo della RSI, una storia di successo che risale al 2016 quando ci siamo accorti che i ragazzi della vostra età, ma anche più piccoli, non guardavano più la radio, non ascoltavano più, scusate, non guardavano più la televisione, non ascoltavano più la radio. E allora ci siamo inventati questa cosa qui. Spiegare che cos'è spam non è facilissimo, almeno a parole. Perché per noi ragazzi che ci seguono è veramente un mondo fatto di voci, racconti, storie, notizie, attualità, impegni, divertimento ed emozioni. Ci piace costruire qualcosa che si è fatto con i giovani, per i giovani e anche dai giovani. E come ogni anno è uscito FIFA. 8 secondi è il tempo che impieghiamo per postare qualcosa sui social. Entra invece in atto l'ossidocina. Come essere più ecosostenibili. Noi ci vediamo, alla prossima. Spam è un magazine social only di infotainment per ragazzi tra i 17 e i 27 anni. Infotainment sono due elementi a cui teniamo tanto. Cercare di informare in maniera fresca e originale, svariando tra le tematiche più delicate. Ciao, sono Simone. Questo è spam. La depressione è un disturbo di personalità. Non era della morte che avevo fatto. E vado con la mia carrozzina. Il Kurdistan. Per ognuna di queste ricerche venga piantato un albero. 41 stati pongono barriere alle ONG che lavorano su questioni di orientamento sessuale. Senza dimenticare quelle più leggere. Ora il calzino tattico, quei limoni. L'uomo su Instagram è una tristezza indescrivibile. Raga, stanno togliendo il like da Instagram. Cioè, non proprio il like, ma il contatore. Non c'è nessun problemi, eh. Dare spazio a storie difficili, ma importanti. Io sono tetrapegico. Posso danzare, posso dipingere, posso scrivere, posso vivere. Sono Lorenzo e ho la sindrome di Asperger. Dare voce a tutti i ragazzi che hanno voglia di raccontare e raccontarsi. Sono una ragazza adottata. Mi fa... Sei positivo all'HIV. Ho causato questa amputazione e adesso sono robotico. Ho un ragazzo F12. Io l'unica scelta che ho fatto è stata quella di accettarla. Sono Silvia e ho la sclerosi multipla. Sono davvero tanti i temi che abbiamo toccato in questi anni. E abbiamo cercato di farlo sempre senza filtri. Perché vogliamo che Spam sia uno spazio libero d'incontro per i ragazzi. È importante costruire qualcosa insieme a loro. Buonestate Spam. Sono le tue e mezza e noi abbiamo superato il record di dieci ore di Radio Live. Ciao Spam, buonestate. Incontrare i ragazzi. Questa è una cosa a cui teniamo davvero molto. Ci trovi fuori dalle scuole, ai concerti. In qualsiasi luogo i ragazzi abbiano occasione di esprimere idee e passioni. Mi raccomando la prima mia lezione di violino. Gli eventi possono essere ecosostenibili. Ciao, sono Francesca Zanzi, portiere del Milan e sono tornata su Spam. E poi essere in grado di essere sempre sul pezzo. Cambiare, ascoltare, dialogare e, perché no, imparare da loro. Quello che ti porti a casa in realtà è molto più grande di quello che in realtà tu puoi dare a loro. Non sei mai da soli, sei con se stessi. Ma adesso siamo noi giovani a dire basta. Sono migliaia le interazioni che abbiamo ogni giorno su Facebook e su Instagram. Ogni giorno sentiamo opinioni, incontriamo ragazzi, parliamo con loro. Ci vuole anche una capacità di ascolto. Vedi il bene che si fa sia ai ragazzi stessi disabili che anche alle famiglie. Comprendere che le discriminazioni laddove sono invisibili comunque funzionano in maniera abusante. I nostri video, poi meme, immagini, stories, sondaggi. Quello che ci piace è sempre creare uno spazio di discussione, di dialogo. Spam spacca perché dai giovani la possibilità di dire la propria. Che da spazio ai giovani. Sono simpaticissimi. Come una grandissima famiglia. Spam è ogni giorno la conferma che si può affrontare qualsiasi tema che i ragazzi hanno tanto da dire e sono pronti ad ascoltare. È importante essere lì dove sono i ragazzi. È importante esserci per i ragazzi. Bisogna però credere in loro, capirli, entrare nel loro mondo e lasciarsi stupire da tutto quello che ci trovi. Noi ci crediamo. Ogni giorno. Voilà. Noi nel 2016 abbiamo voluto creare un progetto che riuscisse così ad adattarsi ai nuovi formati, ai nuovi pubblici. Soprattutto pensando ai social media, visto che erano il posto in cui i ragazzi si trovavano più facilmente. Naturalmente in quanto servizio pubblico la prima cosa che abbiamo fatto è pensare a un format di informazione. Perché ci interessava portare l'informazione ai ragazzi. L'abbiamo fatto unendo info e entertainment, come avete sentito dal video, trovando una formula piuttosto efficace. Oggi Spam è un prodotto molto molto seguito dai ragazzi della Svizzera italiana. Ha 11.500 follower su Instagram, ne ha 15.000 su Facebook, tutti a Target e tutti per la maggior parte della Svizzera italiana. Quindi copriamo quasi la metà del target, cioè andando a prendere uno per uno i ragazzi da Svizzera italiana di quell'età sono 25.000. Quindi più o meno siamo a coprirli quasi tutti. È info a 360 gradi, in contatto costante con il pubblico e ha una flessibilità estrema nel contenuto e nei formati. Siamo partiti da Facebook, poi siamo andati su Instagram, poi siamo sbarcati sulla Instagram TV. Il prossimo passo che faremo è entrare su YouTube. La prima riflessione che abbiamo fatto quando è nato Spam è stata sulla durata. Prima avete sentito la presentazione, in realtà tutti hanno parlato di durate, 120 secondi, 90 secondi. Noi siamo partiti addirittura con 59 secondi. Questo noi l'abbiamo fatto perché abbiamo fatto un ragionamento sulla soglia di attenzione. Come sapete sui vari social network la soglia di attenzione si va dai 10 ai 12 secondi prima che tu schippi un video. 10 ai 12 secondi che sono fondamentali. Infatti le analitiche, quelle su cui i nostri media referent analizzano appunto se uno dei nostri video è efficace o meno, è quando viene visualizzato dai 10 ai 12 secondi in su. Quindi è molto importante, anche considerato il fatto, come diceva giustamente il professor Cantoni, che difficilmente voi andate a cercare un video. Più facilmente vi appare sulla home, più facilmente vi appare sul feed di Instagram, sul feed di Facebook. E quindi catturare in quei 10 secondi è la cosa più importante per far sì che qualcuno veda questo video. A questo proposito, noi abbiamo da subito pensato che il montaggio, l'editing del video fosse una cosa fondamentale. So che voi non editerete così video, ma sono sicuro che questo per il futuro di chiunque vuole lavorare nell'ambito della comunicazione sia abbastanza importante capire come può funzionare un editing di effetto e un montaggio per andare bene sui social network. Riprendo quello che diceva il professor Cantoni, noi abbiamo proprio una regola estrema. La cosa più forte che avete del video va all'inizio, non va alla fine. Molto probabilmente non lo guarderanno fino alla fine. Il 70-80% delle persone non arriva alla fine di un video, anche di 59 secondi. Una delle cose infatti che ci ha dato più soddisfazione in questi anni di spam è che siamo il profilo con maggior tempo di permanenza sui video. Ma il che vuol dire che anche noi dobbiamo dire che il 30% delle persone, il 20%, arriva sempre a guardare un video fino alla fine. Lo so, è drammatico, ma è una cosa su cui bisogna lavorare e su cui, come dire, non ci si può far nulla. I social network vengono fruiti così. Più tu sei bravo, più però questo tempo di permanenza aumenta. Quindi, come vi dicevo, l'intro è la cosa fondamentale. I 10 secondi devo far venire voglia di continuare a guardare quel video. Per far questo, poi, dopo quei 10 secondi, è importante avere un proprio linguaggio. Nel caso di spam è un linguaggio fatto di tagli super veloci, di tantissimi effetti e preset, di overlay, di transizioni una dietro l'altra. Ora, questo qua che vedete, per esempio, è un montaggio, è una sequenza in premier, è un video di 99 secondi. Ieri li ho calcolati, sono più o meno 92 tagli. Che vuol dire che andiamo veramente velocissimi. Ogni 5-10 secondi noi cambiamo. O facciamo un'inquadratura più stretta, mettiamo un inserto di un film, cambiamo musica, cambiamo inquadratura. 5-10 secondi, proprio per tenere sempre l'attenzione di chi guarda il video al massimo. Ed è, devo dire la verità, un linguaggio che ha funzionato molto bene e che sta funzionando ancora adesso, dopo 4 anni di esistenza di spam. Un'altra cosa a cui noi facciamo super attenzione è la sonorizzazione. Cambiamo musica più o meno ogni 10-15 secondi, quando facciamo un video, quindi vuol dire che in un video di 100 secondi ci sono... Fate il calcolo vuoi perché non sono bravo in matematica. Tot canzoni. Una cosa super importante, quando si parla di musica adesso vi farò vedere, è se potete non usate le musichette da presentazione perché sono agghiaccianti e sono una delle cose più noiose che esistono al mondo. Quindi usate musica vera, dopo vi farò anche vedere come fare e che strumenti vi può dare la rete anche a gratis per fortuna per andare contro le musichette da presentazione che veramente devono essere abolite dal mondo. L'effettistica audio è anche super importante, ogni volta che noi facciamo una transizione, l'avete visto nel video, che siano zoom in, zoom out, che siano slide, abbiniamo sempre un effetto audio. Questo fa sì che al taglio venga dato ancora più effetto e aiuti a rimanere sulla visualizzazione del video. Ok, prima della musica ho inserito questa slide che riguarda l'estetica e l'immagine. C'è un ancestrale dubbio tra chi fa televisione se usare il cellulare vada bene o meno. La mia esperienza in questi quattro anni è va benissimo. Noi all'interno di spam usiamo anche camere super professionali, abbiamo videomaker che usano camere professionali, ma nel corso di questi anni abbiamo imparato che il cellulare è uno strumento pazzesco, super utile, super flessibile, soprattutto per alcuni generi di video. I vlog, quando vuoi raccontare qualcosa in prima persona. I vox pop, quindi quando devi andare a raccogliere opinioni, non hai bisogno di una camera, non hai bisogno di un microfono. Il microfono tra l'altro degli iPhone è ottimo, anche quando punti la camera verso il tuo interlocutore. ci ha dimostrato insomma di funzionare benissimo, quindi l'abbiamo veramente sdoganato alla grande. Chiaro, le regole di inquadratura non cambiano, a meno che non stiate lavorando su formati diversi. Come sapete ogni social network ha un suo formato, anche questo è un grande dramma che chi fa oggi audio video affronta, venendo dal vecchio mondo della televisione. Su Facebook vanno i video quadrati, sulla Instagram TV vanno i 9 e 16 esimi, su YouTube vanno i 16 noni, su TikTok vanno i 9 e 16 esimi, quindi l'inquadratura cambia, è vero. Però quello che rimane è che una bella immagine funziona sempre, anche una bella fotografia funziona sempre. E l'occhio, come dire, se ne accorge subito di quando un'immagine è sgranata, di quando invece un'immagine è curata. Questa è un'altra regola fondamentale che vi consiglio, quella che noi ci diciamo sempre, il 4K, che spero sapete tutti cos'è, salva sempre. 4K è una tecnologia di ripresa che avete tutti sul vostro associo cellulare, se avete un cellulare non più vecchio di 3 anni, permette di avere un'inquadratura che è grande il doppio rispetto al Full HD, il che vuol dire che quando voi andate a montare in Full HD, potete ingrandire e rimpicciolire l'inquadratura del 50%, così da avere in una sola ripresa due inquadrature. Questo già per un montaggio è fondamentale, vuol dire che avete due inquadrature senza perdere di qualità e già solo se dovete fare uno speech, avere una ripresa in 4K, vi permette di giocare con due inquadrature senza neanche far troppa fatica. Cavalletto, video in 4K, avete già due inquadrature pronte. Quello che consigliamo noi però sempre è di avere almeno tre inquadrature per intervista, quindi se è possibile mettere una camera laterale. Se non è possibile, perché non l'avete, perché non avete un altro cellulare a disposizione, una cosa che fanno i vostri smartphone è avere delle app multicam, in che vuol dire che ci sono app che vi fanno già tre, quattro inquadrature, la quarta inquadratura spesso è il vostro selfie, quindi usa tutte le camere che ha in cellulare per dare più inquadrature possibile. Poi quando esportate il video vi salva quattro, o tre video a seconda di quante camere avete sul vostro cellulare, e queste quattro sequenze poi le potete usare in montaggio e vi tornano super utili, anche senza fare editing complessi come facciamo noi. Un piccolo consiglio poi che vi do nel momento in cui pensate alla pubblicazione di questo video, è fondamentale sapere dove andate a metterlo, ed è fondamentale sapere che se volete comunicare attraverso i vostri canali, quindi attraverso i vostri profili social, la pulizia e la grafica nel feed è fondamentale per fare un passaggio alla professionalità. Il che vuol dire che quando io entro nel feed di un profilo professionale, riconosco subito che cos'è, i colori, in questo caso le cornici, i font, i titoli, mi dà l'idea di qualcosa di omogeneo, e questo aiuta tantissimo poi nel ritornare a visitare quel profilo. Noi abbiamo fatto un lavoro sulla grafica veramente gigante in questi anni, per poter avere un feed che come entri ti sembra di essere nella stessa casa, questo è fondamentale per chiunque voglia usare i social network in maniera professionale. Quello che vi dicevo, la musica è importante. Allora, parto da un paradosso. Il 70% delle persone, statistica che trovate su qualsiasi site dei social network, guarda i video senza audio. Questo perché spesso e volentieri li guardiamo in aula, sull'autobus, in macchina, mentre siamo in giro, magari non abbiamo le cuffiette. Anche questa è una cosa molto difficile da affrontare per chi fa il mio lavoro, perché noi ci teniamo molto che la gente ascolti le interviste e non solo che le guardi. Però bisogna far conto, bisogna prendere atto di questo, ed è per questo che per noi è diventato obbligatorio sottotitolare i video. Tutti i nostri video che sono costruiti apposta per i social network o per il web sono sottotitolati. Questo perché così chiunque lo può fruire senza audio, cosa che spesso e volentieri avviene. Il paradosso però, molto divertente, che ci danno i social network è che l'algoritmo, quindi quello che fa poi sì che il vostro video vada su le home di tutti i vostri contatti, l'algoritmo riconosce le canzoni, per questo che prima vi dicevo che sono un po' da abolire le musichette da presentazione, riconosce le canzoni e riconosce le canzoni che vanno di più al momento. E tende a spingere i video che hanno su quelle canzoni. È una cosa molto semplice da capire, perché funziona la canzone, è riconoscibile, probabilmente la troverete anche da qualche parte da acquistare. Quindi vengono premiati questi video. Noi naturalmente come RSI abbiamo i diritti per queste canzoni, quindi non ci poniamo neanche il problema di usarle, spesso e volentieri poi gli stessi artisti rilasciano le cosiddette instrumental, quindi trovate addirittura la canzone, come avete sentito in molti pezzi del video che vi ho fatto vedere, è la canzone senza il parlato, senza il cantato, ma solo con la strumentale, che torna utilissimo per i montaggi. Ma altrimenti c'è uno strumento meraviglioso che si chiama Type Beat, che non so se conoscete, ma che vi consiglio di andare a trovare su YouTube. I Type Beat sono dei beat che assomigliano alla musica originale, vengono composti appositamente per assomigliare a, non so, musica trap, musica di Justin Bieber, musica hard rock, ma non sono quelle originali, quindi non ci sono problemi di diritti. Spesso e volentieri vengono anche messi a disposizione gratuitamente, il più delle volte dai produttori, perché è pubblicità per loro, farsi conoscere in questo senso, e aiutano tantissimo, perché l'algoritmo pensa che siano quelle cose lì, ma in realtà ci assomigliano. E anche per l'ascolto, comunque, è molto piacevole avere una musica che riconosci rispetto a qualcosa che ti è completamente strano. Io in realtà sono veramente super veloce, non pensavo di andare così veloce, questa è l'ultima slide che ho. Flessibilità e cambiamento, è quello che vi dicevo all'inizio. Uno dei successi di spam è stato che in questi anni abbiamo saputo cambiare i formati tantissimo. Noi siamo partiti dai 59 secondi, abbiamo introdotto il 99 secondi, abbiamo introdotto il 120 secondi, abbiamo introdotto il 150 secondi, abbiamo introdotto il formato quadrato, abbiamo introdotto il formato del 9 sedicesimi. Siamo stati i primi a usare l'Instagram TV e usare il TikTok. Questo è stato possibile proprio perché siamo così pronti a cambiare anche nel modo in cui facciamo questi video, nel modo in cui portiamo questi formati, nel modo in cui li montiamo. Questi sono solo alcuni dei cambiamenti che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo, più o meno. Instagram nell'ultimo anno ha sdoganato quattro formati diversi per i contenuti. Il feed, che ha video di 59 secondi quadrati. L'Instagram TV, che ha video in 9 sedicesimi, premiati se sono dal minuto e mezzo in su. Le stories, che come sapete durano 15 secondi. E Reel, che è il nuovo formato nato per contrastare TikTok, che è ancora un po' al vaglio, allo studio, per capire bene cosa farne. Facebook ha introdotto Watch, che è la nuova modalità di fruizione dei video. Voi quando guardate un video sul feed di qualcuno, vi rimanda automaticamente a Watch. Ha cominciato a monetizzare i video, che è lo scalino fondamentale per capire quando una piattaforma punta sui video, e privilegia quella sopra i due minuti. Cioè, sopra i due minuti ti mette la pubblicità, sotto non te la mette. Noi naturalmente non monetizziamo i video, ma le tempistiche sono uguali anche per noi. Vuol dire che i video sopra i due minuti su Facebook vengono privilegiati. TikTok usa video di 15 secondi, ma la cosa fondamentale è che l'algoritmo premia quelli montati in app, invece di quelli caricati già montati. E anche questa è una cosa di cui tener conto quando vai a lavorare su questi vettori. YouTube, che è la piattaforma più difficile al mondo su cui lavorare, ve lo posso garantire, stiamo provando da anni, noi in RSI a far funzionare YouTube, ed è veramente, veramente molto difficile, perché richiede una conoscenza del mezzo veramente altissima. Nel senso che in YouTube sei sempre comunque un agon in un pagliaio, che tu sia la BBC o che tu sia un ragazzo che fa un video da una cameretta. Quindi devi essere bravo veramente a conoscere il mezzo alla grande. La prima cosa però che noi ci siamo posti, quando abbiamo detto entriamo o no su YouTube e non l'abbiamo ancora fatto, è che YouTube privilegia video, perché monetizza dai 5 minuti, dai 5-7 minuti in su. E non l'abbiamo ancora fatto perché noi non abbiamo ancora, come dire, il mezzo per poter arrivare a fare video di 5-7 minuti, prima di imbarcarci in una sfida simile e vogliamo capire se ne vale la pena. Quindi per un format come spam è fondamentale sapersi muovere in questi cambiamenti nel più breve tempo possibile. Il montaggio, l'editing dei video è probabilmente il primo mezzo con cui andare incontro a questi cambiamenti. L'essere bravi, l'essere super sul pezzo per riuscire a cambiare in un attimo il modo in cui tu concepisci un video fa sì che resti al passo con tutto questo e fa sì che tutti quanti possano vederti e che non ti capiti di essere quello delle 25 visualizzazioni che oltre ad essere, insomma, anche frustrante dal punto di vista personale è anche inutile poi per quello che tu vuoi comunicare. Basta. Grazie. 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 Grazie a tutti.